E' stato approvato all'unanimità della provincia di Alessandria il progetto di fusione di Lue Cuccaro Monferrato, quanto contenuto nella deliberaventi del Consiglio provinciale appena pubblicati. Il Consiglio si è riunito il 29 maggio scorso per dibattere sul progetto di fusione mosso dai comuni di Lue e di Cuccaro Monferrato e la deliberazione provinciale faceva seguito a una riunione molto approfondita della terza commissione nella quale erano stati convocati i rappresentanti dei due comuni monferrini insieme alle amministrazioni.